Ciao a tutti! Allora, oggi vi faccio vedere un prodotto che va ad aprire. È un nuovo shampoo, è questo, è di Chelemata, non ho mai provato niente di questo marchio. È uno shampoo fortificante al fiordaliso, per capelli delicati e fragili. Le sue proprietà addolcenti e emollienti porsegano il capello e consentono lavaggi delicati e frequenti. Sono 250 ml, dura 12 mesi dall'apertura, è made in Italy e ha scritto, originale formula specifica per capelli delicati e fragili. Associa le proprietà addolcenti e emollienti dell'acqua distillata di fiordaliso a derivati detergenti non aggressivi per consentire un lavaggio efficace ma delicato. Adatta ad usi frequenti, lascia capelli lucenti, soffici, leggeri e facili da pettinare. Modo d'uso, versare una piccola quantità sul palmo della mano, distribuire su tutta la lunghezza dei capelli bagnati, massaggiare il cuoio capelluto, lasciare agire per qualche minuto, quindi sciacquare e ripetere l'operazione. Ok, io credo che non ci sia nient'altro da dire sulla confezione. Il prodotto è questo, io l'ho preso, se vi ricordate, da Farmacia Igea e era uno di quelli che costava un prezzo accettabile, diciamo così. Si apre normalmente così. L'odore è molto buono, credo che sia fiordaliso, anche se io non ho tanto presente, però è un odore tipo di fiore. Quindi facendo 2 più 2 direi che è fiordaliso. Molto buono, sono molto curiosa di provarlo. Ne avevo presi 2, l'altro è la camomilla. Ha un colore vagamente azzurrino, verdino, comunque, quello non è molto importante. E vediamo come me ci trovo. Vi faccio sapere quando l'ho finito. Ciao a tutti, scusate, sono ancora con questa ripresa un po' storta, ma veramente devo tenere la finestra di camera chiuse, perché è caldissimo, se no veramente non ci si sta in questa stanza, diventa un forno. Quindi mi metto qui davanti alla quarta finestra e poi la richiudo, così evito di dover aprire tutto. Insomma, vabbè, lasciati perdere i miei ragionamenti logistici. Oggi vi volevo parlare di un prodotto che è quasi finito, mancano veramente un paio di utilizzi e poi è finito, e è lo shampoo. È uno shampoo fortificante al fiordaliso. Allora, effetto fortificante non so dirvi, sinceramente non ce l'ho notato particolarmente. Però è uno shampoo che sicuramente è delicato, cioè non mi ha dato nessun problema di noie, di così. Ha un odore che mi piace molto di fiordaliso, credo sia, comunque un odore di pulito vagamente floreale, ma secondo me non è nemmeno particolarmente femminile, perché è più che altro un odore fresco. È un prodotto che mi è piaciuto molto, è uno degli shampoo migliori usati nell'ultimo periodo. Quello che avevo usato prima di TH Pharma mi è piaciuto ancora di più, perché lasciava il capello ancora più leggero. Questo non lascia il capello pulito, ma non dà quell'effetto da parrucchiere uscite, wow, avete il capello super super leggero. Però va benone, nel senso che pulisce bene, non ne serve molto, è abbastanza concentrato, ha un buon profumo, vi lascia la pelle pulita abbastanza a lungo e è sicuramente un prodotto che mi è piaciuto. Essendo estate lavandomi abbastanza spesso la pelle è finito abbastanza velocemente, ma il prodotto è veramente un buon prodotto. E niente, con questo è tutto, se avete domande lasciate un commento e vi mando un saluto. Ciao!